Qui abbiamo il nostro amico Lependu, l'appeso a testa in giù. E l'appeso può avere molti significati, ma in questo caso ci piace pensare che sia nel suo significato migliore di riflessione e meditazione. Un momento riflessivo, necessità di fermarsi e di riflettere, infatti sta perfettamente di fronte a temperanza. E i due significati si uniscono, ci vuole la meditazione e la temperanza, quindi attesa e calma. Per fare in modo che le energie che si muovono riescano a trovare la loro giusta collocazione.